e allora buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti e condividete questo video con tutti i tifosi che conoscete 7.000 like che non sto neanche a conteggiare va bene lasciateli tutti guardatevi i video fatti sia quello di quest'oggi in cui abbiamo parlato di Dybala all'Inter il processo di ieri con il gigione vi ricordo che domani come ho scritto sul mio instagram per abbonati base ore 14 e 30 ritorna il pescatiano con il derby imperdibile signori carlo e treviso poi la mattina invece una bella bombetta di mercato inerente la juventus vi lascio in descrizione il link di fan rating per andare a dare i voti ai giocatori di questa partita e cosa dire signori applausi e fecazioni applausi e fecazioni perché voglio dire non non mi viene in mente una vittoria più più da porconare di questa però in ogni caso resta resta un'ottima prestazione dell'Inter in quel di Liverpool contro un Liverpool sfortunato per carità perché ha colto anche diversi pali cose però anche un po' tonnato un po' e va leggero forse un po' anche supponente per approccio alla partita e un Inter invece che mi è piaciuta mi è piaciuta soprattutto per quel che riguarda la voglia per quel che riguarda l'unità del gruppo per quel che riguarda lo lo spirito con cui l'Inter ha approcciato sta partita anche di sacrificio di voler tentare l'impresa e qui mi viene da dire una cosa ragazzi in questo video qua farò un 75 80 anche per cento di elogia in zaghi ma anche un 15 20 per cento un po' di un po' di caccagione un po' di perché i cambi non mi sono piaciuti moltissimo quell'espulsione di Sanchez probabilmente ha mandato a monte un piano che c'era e quindi sei rimasto un po' sui colpi da quel punto di vista lì però non ho capito perché mettere non mettere Dzeko tanto sei lì te la stai giocando non hai niente da perdere mettilo dentro che magari ti alza la squadra ti dà un riferimento in uscita un altro cambio che avrei fatto per esempio perché ad un certo momento della partita non si poteva giocare così come lo farei in campionato attenzione con Gosens e Perisic al posto di Darmian che è uno un po' più difensivo lo stesso Vessino l'avrei fatto entrare un po' prima diciamo che a livello di cambi la sensazione è quella di essere rimasti a metà e di non aver mai superato pienamente quell'espulsione di Sanchez anche rimarcata un po' eccessivamente secondo me in cronaca c'è stata l'espulsione subito a dire adesso sarà durissima è impossibile ebbene non è che prima fosse facile avevi fatto l'1 a 0 ma anche anche in 11 contro 11 sarebbe stata difficile un po' più di un po' più di coraggio da parte di tutti poi anche nel primo tempo quando hanno fatto quella enciclica sul cross di Alexander Arnold che non è stato Matip a colpirlo di testa ma è stato Alexander Arnold a tirare ed è stato quasi un cross che cazzo deve fare di più Matip per dire che l'ha colpita di testa è stato invece bravo a colpirla di cosa deve fare deve andare in area correttino buttarla giù e tirare di piede che cazzo comunque vabbè a parte questo è stata una partita divertente una serata divertente un inter divertente e al di là di quello che è un po' rammarico un po' per gli episodi della partita sicuramente quello di Sanchez ma un po' anche per il risultato è tutto un po' anche per i cambi che avrei fatto in modo magari un po' diverso anche se col senno di poi diciamo da lontano è sempre facile dirlo ma vi dico anche un'altra cosa con buona pace di chi dice che Lautaro è scarso che senza Conte e Lukaku non si può fare calcio invece assolutamente no vi dico di più l'inter di Conte con tutto il rispetto per Conte che è un ottimo allenatore che sicuramente a livello di grinta infusa alle squadre non ha rivali ma quella lì era un inter molto più a breve termine non ti dava la sensazione di essere una storia tra virgolette tecnico tattica le squadre di Conte tu sai che è come una dinamo attaccata per due anni che tutti vanno al 110 120 per cento ma non c'è un percorso anche in senso evolutivo di gioco di crescita in senso europeo è una shock therapy per una vittoria spesso in ambito nazionale invece quest'inter qui con quelli che possono essere i suoi limiti con i correttivi del calcio mercato con anche un inzaghi che è giovane e deve crescere ma anche in seno europeo in ottica europea mi dà molto più l'idea di una squadra che può crescere che può lasciare un percorso che può lasciare una traccia che può tracciare un percorso che è quello che per certi versi vi ho detto oggi al posto di andare dietro alle suggestioni degli svincolati e via dicendo vedi cosa stai costruendo anche a livello europeo a secondalo a livello europeo visto che tanto la posizione champions quantomeno ce l'hai assicurata giocatela anche lì come hai fatto quest'anno puntando agli ottavi e evolviti in quel senso non sempre star nel micro cortiletto vuoi dei rimpianti vuoi delle occasioni di mercato a zero traccia un percorso che lo stai facendo e quest'oggi con tutti i limiti e con tutto hai visto una squadra che inizia a avere un'identità inizia a essere anche a essere interessante a vedere vedi un terreno seminato e ancora seminabile questa secondo me è la grande cosa che resta da questa sera che vedi una squadra che dici beccazzo sti livelli qua sarebbe bello rivederla sei curioso di rivederla giocare magari l'anno prossimo seguire il percorso sei curioso di vederla di 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 vedere quale sarà il destino ultimo anche di sta squadra di come crescerà capisci che te la puoi giocare poi per carità hai avuto anche fortuna liverpool tornato tutto quello che vuoi però hai visto uno spirito hai visto un gioco hai visto anche del coraggio ok che un po però purtroppo è mancato l'allenatore che i cambi non li ha gestiti molto bene però guardate che ci sono tante cose di quest'inter qui che sono giovani anche per certi diversi ed è bello ed è giusto così sono cose che stanno germinando anche a livello di gioco che possono crescere che tu puoi assecondare io stasera ho visto questo io stasera ho visto questo è anche una buona unità del gruppo voglia di sacrificio voglia di 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 esserci una squadra anche divertente una squadra che non ha paura una squadra sfrontata poi hai perso chi se ne frega adesso inizieranno già a parlare adesso arriveranno diciamo i fan del contismo perché sono così a dire ma adesso in campionato ci avrai brozovic fuori the frame ma chi se ne frega ma chi se ne frega voglio dire nel calcio e anche emozione oggi anzi era giusto dire sono solo una zero ma ci provo ancora di più butto gecko vado avanti questo un po questo un po mi resta l'amaro in bocca poi eri con il liverpool area danfield magari mettevi dentro gecko prendevi l'uno a uno il chi lo sa però un po da quel punto di vista lì un po da quel punto di vista lì un po di un piccolo una piccola puntina di amarezza resta però per il resto penso che questa oltre più che fargli applausi bisogna veramente rendersi conto che questo inter qui può essere una bella storia anche per gli anni a venire perché comunque io penso che in zaghi la riconferma se la riguadagna anche se non vince lo scudetto però puoi veramente innestare un percorso se anche lui si si slega tatticamente se diventa un po più aperto mentalmente a livello tattico se cresce anche lui questa squadra può diventare veramente una squadra come avevamo detto quest'estate più europea più fluida più liquida nuova innovativa capito stasera si sono viste le tracce di questo percorso ok ditemi cosa ne pensate anche nei commenti mettete like condividete con tutti i tifosi che conoscete vado a dare i voti all'inter allora andanovic beh ha fatto un'uscita a vuoto su sala però gli diamo io gli darei 6 6 politico screener dal 6 al 7 prestazione veramente monumentale anzi potrebbe beh non non si sono glielo diamo il 7 screener glielo diamo dai diamo 6 dal 6 al 7 screener defray 6 fin tanto che era in campo non è che avesse brillato e dal 6 al 7 a bastoni diamo perché hanno giocato veramente bene tutti e due forse screener un po meglio dal punto di vista difensivo bastoni della manovra però una partitona da parte di entrambi stiamo sul doppio dal 6 al 7 danfris ecco questo non mi è piaciuto molto e avrei messo gossens non darmian questa è una delle scelte che mi ha un po tarlato danfris diamo 6 meno vidal gli do 6 più per quel recupero che ha fatto poi non mi è sempre piaciuto specie il primo tempo diversi palloni persi non grandissima lucidità però per l'intensità per la garra per anche la duttilità nel ricoprire più ruoli anche dall'espulsione in poi e per quel salvataggio un 6 più brozovic ho visto brozovic migliori benino il primo tempo poi un po sparito gli voglio dare 6 più e sono buono cialanoglu qualche buon piazzato il primo tempo però anche qualche tiro impreciso qualche apertura poco precisa gli do un 6 molto politico per il risultato della squadra per esic 6 più l'autoro martinez non ha fatto una partita indelebile però quel gol lì lo è quindi io gli do 6 e mezzo solo per la bellezza del gol sanchez cazzo fino all'espulsione era forse il migliore in campo dell'inter io gli do gli do 6 perché è stato ingenuo fare quel doppio fallo però aveva giocato bene gagliardini voto 6 vessino 6 correa 6 d'ambrosio voto 6 più entrato bene voto ad armian 6 diciamo non tutti i subentrati mi sono piaciuti ma era anche una partita difficile da poi andare a rendicontare di e di valutare per quello che è successo voto ad in zaghi gli do 6 e mezzo per la vittoria per la vittoria prestanzi anche sì no diamo 6 e mezzo perché comunque a freddo sui cambi si può ragionare che non sono stati secondo me perfetti 6 e mezzo per l'identità della squadra il coraggio la vittoria un caro saluto